Buonasera a tutti, sono la Vannoni Fiorella, Nannetti, della tenuta Croce di Mezzo Montalcino e produciamo brunello, rosso, grappa, olio extravergine di oliva e un rosolio. Un'azienda a conduzione familiare che da 1971 si è posta questo obiettivo di produrre un brunello nella sua tipicità, classicità e cerchiamo di rispettare totalmente il disciplinare che obbliga a un'attenzione massima sulla qualità estrema e quello che facciamo con tanto piacere e con tanta abnegazione, mio figlio è colui che si occupa dei vini, è un enotecnico e con amore e passione, come dicevo prima, porta in cantina delle uve sanissime che sono assolutamente indispensabili per produrre un brunello che abbia anche una longevità importante, come è richiesto da un vino così. La cantina è a conduzione anche quella familiare, abbiamo solo due persone che ci aiutano, due nostri attentissimi collaboratori, ma la nostra mano è sempre presente in tutte le fasi della produzione del brunello. Questo brunello che presentiamo oggi è il 2008, ancora giovanissimo, è in bottiglia dall'anno scorso di febbraio, quindi io lo ritengo ancora molto molto giovane, fresco, ha bisogno secondo me di essere tenuto in cantina per alcuni mesi ancora, passata l'estate è senz'altro al top della sua qualità, che rimarrà così per lungo tempo, perché come ripeto, essendo una produzione rispettosa della ticipicità e del disciplinare, usiamo solo 100% Sangiovese, quindi può andare avanti per 40 anni nella bottiglia, se tenuta nel giusto equilibrio tra temperature, luogo, senza il contatto diretto della luce, profumi vari e la posizione è sdraiata per rispettare il tappo che deve rimanere umido per tutta la durata del vino. Grazie a tutti!